Sì, ma non solo di Roma, lui rappresenta il calcio, quindi andiamo dentro e adesso lo festeggiamo come merito. Grazie. Un augurio per tutti? Un augurio che possa superare il record che gli manca, quindi un augurio che possa continuare ancora e possa deliziarsi come sta facendo nel prossimo periodo.